Ciao e bentornati sul mio canale! Senza tanti fronzoli oggi vado a spiegare Draco, Troll e Cavalieri. Si tratta praticamente del fratello di Troll, Draco e Nani, che ho spiegato qualche tempo fa e che ha praticamente le stesse regole di base, ma che ha due frazioni completamente diverse. Andiamo subito a vedere il setup. Per prima cosa ovviamente si piazza il tabellone al centro del tavolo. Ci mettono poi i segnalini ferita a fianco del tabellone in modo che entrambi i giocatori riescano a raggiungerli. I giocatori poi scelgono di comune accordo o casualmente la loro fazione. Uno utilizzerà i due troll, l'altro invece i tre cavalieri. Le miniature vengono quindi disposte in questo modo. Lo spadaccino al centro con i due arcieri al fianco, i troll lancia rocce sulla destra e il troll berserker sulla sinistra. Ognuno quindi otterrà le proprie componenti. Qui abbiamo la plancia del giocatore cavaliere con le relative carte e il segnalino schivata, mentre qui sotto abbiamo la plancia dei troll, le relative carte e i dieci segnalini roccia. I due arcieri hanno tre punti vita lo spadaccino quattro, il troll lancia rocce ne ha otto, mentre quello berserker addirittura dieci. Entrambi i giocatori poi mescolano il proprio mazzo, pescano quattro carte ciascuno e si è pronti per cominciare. Il re ha messo una taglia su due troll che sono responsabili di diversi attacchi lungo una strada. Tre cavalieri decidono di tendere loro un'imboscata appena prima dell'alba, ma i troll se ne accorgono e quindi la battaglia si scatena. Lo scopo dei troll è quindi quello di uccidere i cavalieri prima che si levi l'alba. Lo scopo dei cavalieri invece è quello di uccidere i troll o di resistere finché l'alba non arriva. Proprio come in Draco, Drago e Nani quindi i giocatori utilizzeranno delle carte che faranno fare loro delle azioni. Chi riuscirà a sfruttare meglio i propri punti di forza risulterà vincitore. La partita si svolge in una serie di turni consecutivi partendo dal giocatore troll e poi alternandosi uno dopo l'altro. Durante il primo turno il giocatore troll farà soltanto un'azione, mentre poi dai turni successivi entrambi ne faranno due a testa. Non è possibile passare queste azioni ed è sempre obbligatorio eseguirle. Le azioni fra cui scegliere sono due, ovvero pescare carte o giocare carte. Il giocatore durante il proprio turno può anche fare due volte la stessa azione. Quando un giocatore decide di pescare carte, prende due carte dal mazzo e le aggiunge alla propria mano. Se così facendo il giocatore dovesse superare le sei carte in mano, dovrà scartare una o più carte finché in mano non ne avrà soltanto sei. Se invece il giocatore decide di giocare carte, giocherà ovviamente una carta dalla mano scegliendo una delle opzioni presenti in alto a sinistra sulla carta stessa. Dopo aver applicato gli effetti dell'azione, la carta viene scartata. Vediamo ora dapprima quali sono le azioni che possono eseguire i cavalieri. Movimento. Quando il giocatore cavaliere utilizza questa carta, può muovere uno dei propri cavalieri di un numero di esagoni pari o inferiori a quanto indicato di fianco all'icona stessa. Possiamo quindi ad esempio muovere questo cavaliere così. Molto similmente invece con questo si può fare un movimento doppio, ovvero si può muovere due cavalieri di un esagono. In questo modo. Quando ci si muove, e questo vale sia per i cavalieri che per i troll, non si può passare attraverso né a miniature alleate né a miniature nemiche e bisogna terminare il proprio movimento su un esagono vuoto. Quando si gioca una carta con l'attacco singolo, un cavaliere può attaccare un avversario adiacente facendogli un numero di danni pari a quanto indicato di fianco all'icona della spada. In questo caso quindi l'arciere può attaccare il troll berserker facendogli un danno. Il danno viene quindi piazzato in corrispondenza del troll attaccato partendo dall'alto e andando poi verso il basso. Il giocatore troll può comunque giocare una delle proprie carte difesa, quelle con l'icona delle braccia incrociate, per evitare tutto il danno proveniente da una singola fonte. Giocando la carta quindi in questo caso il danno non viene subito. Le carte con due o tre spade fanno attaccare due o tre cavalieri adiacenti ai troll. La carta da due ovviamente dà la possibilità a due cavalieri di fare un attacco da un danno ciascuno a uno dei troll adiacenti, mentre quelle da tre convolgerà tutti e tre i cavalieri. Se si vuole giocare ad esempio la carta col triplo attacco e abbiamo solo due cavalieri decenti lo possiamo fare, semplicemente un attacco andrà perduto. Per difendersi il giocatore troll potrà comunque utilizzare le carte difesa, ma per ogni attacco dovrà utilizzarne una diversa. Le carte col simbolo difesa vengono invece utilizzate dal giocatore cavaliere per difendersi da eventuali attacchi troll sferrati durante il turno dell'avversario, scartando la carta in caso di bisogno. La carta con la doppia difesa ha lo stesso effetto, semplicemente pari a due attacchi generati dalla stessa carta. Possono quindi essere parati due attacchi su uno stesso cavaliere, oppure un attacco su due cavalieri diversi. Quando il giocatore cavaliere utilizza una freccia, uno dei propri arcieri, ovvero i cavalieri dotati di arco, possono tirare una freccia a un avversario. Per fare ciò bisogna tracciare una linea retta che va da una delle miniature arciere e arriva su una miniatura avversaria, senza incontrare alcuna miniatura nel cammino. La miniatura avversaria subisce un numero di danni pari a quanto indicato di fianco all'icona della freccia, a meno che questi non decida di giocare una carta difesa. L'ultima azione che si può trovare stampata sulle carte sono le rinforzi. Se durante la partita uno degli arcieri è morto e lo spadaccino è ancora vivo, il giocatore cavaliere può rievocare il proprio arciere morto, posizionandolo su uno dei due esagoni di partenza, e togliendo quindi tutte le ferite da quell'arciere dalla plancia dei cavalieri. Infine il giocatore cavaliere, se lo spadaccino è ancora vivo, può utilizzare una volta per partita il segnalino schivata. Questo, quando viene utilizzato, va scartato e permette di ignorare un attacco subito come se si è giocato una carta difesa. Vediamo ora l'abilità dei troll. Le carte con stampato movimento singolo e movimento doppio sono molto simili a quelle che abbiamo appena visto per i cavalieri. Con la carta a movimento singolo si muove uno dei troll di un numero di spazi pari o inferiori a quanto indicato di fianco all'icona. Con movimento doppio invece si possono muovere uno o entrambi i troll di quanto indicato di fianco all'icona. Con l'attacco singolo il giocatore troll attacca uno dei propri avversari adiacenti a una delle sue miniature facendogli un numero di danni pari a quanto indicato di fianco all'icona stessa. Ed ecco qui, come abbiamo visto prima, il giocatore cavaliere può giocare carte difesa per evitare di subire danni. Come abbiamo visto prima, poi le carte difesa permettono al giocatore di troll di difendersi da danni effettuati dal giocatore cavaliere. Ci sono poi due abilità, la carica e il lanciarocce, che possono essere fatte solo se i troll non sono troppo feriti. Se quindi il troll lanciarocce ha già subito tre ferite, l'abilità lanciaroccia non può essere utilizzata. Allo stesso modo, se il troll berserker ha già quattro ferite o più, l'abilità carica non può più essere utilizzata. Se il giocatore utilizza una carta con l'abilità lanciaroccia, il giocatore troll traccia una linea dritta che parte dalla propria miniatura e cerca di andare ad attraversare più miniature avversarie possibili. La prima miniatura che andrà a incontrare subirà il numero di danni indicati di fianco all'icona del lanciaroccia, in questo caso due. La miniatura successiva subirà un danno in meno, eventuali miniature successive non subirebbero alcun danno. Il giocatore avversario può giocare normalmente carta difesa per ogni miniatura che subirebbe danni. Se invece il giocatore troll può ancora utilizzare la sua abilità berserk, prenderà la miniatura azzurra e la muoverà in una linea retta verso una miniatura avversaria. A quel punto il troll sferrerà due attacchi, ciascuno di una forza pari a quanto indicato di fianco all'icona della carica stessa. In questo caso perciò due attacchi da uno. Il giocatore avversario può normalmente giocare una carta difesa per ogni attacco per evitare di subire i danni. Un'ultima cosa di cui il giocatore troll deve tenere contro sono i segnalini roccia. Alcune abilità infatti, quando utilizzate, indicano di spendere dei segnalini roccia, in questo caso uno e in questo caso due. I segnalini roccia quando utilizzati vengono scartati e abilità con il simbolo del segnalino roccia di fianco ad essa non possono più essere utilizzato quando questi saranno terminati. La partita può terminare in tre modi. Se il giocatore troll riesce a eliminare l'ultima miniatura presente sul campo di battaglia del giocatore avversario, allora ha vinto la partita. Se invece il giocatore cavaliere ha di uccidere l'ultima miniatura del giocatore troll, sarà questi a vincere la partita. Se almeno un cavaliere è vivo e il giocatore troll ha giocato la sua ultima carta a disposizione, allora il giocatore cavaliere ha vinto la partita. Nel caso in cui sia invece il giocatore cavaliere a giocare la sua ultima carta, la partita non termina. Il giocatore troll potrà continuare normalmente i propri turni saltando direttamente il turno del giocatore cavaliere finché non riesce a sconfiggerlo o finché anche lui non avrà finito le carte. In aggiunta a quanto vi ho detto finora, le fazioni qui presenti si possono combinare con quelle dell'altro draco. Si può quindi combattere drago contro troll, nani contro cavalieri oppure cavalieri contro drago e troll contro nani. Le regole sono praticamente sempre quelle. Ci sono solo delle piccole variazioni da fare a seconda delle fazioni che si affrontano, ma se si hanno entrambe le scatole quindi si possono avere sei combinazioni differenti di incontri. Se devo sceglierne uno però devo ammettere che sarei abbastanza indeciso. Drago e nani ha il suo fascino ovviamente, è una sfida classica. In troll e cavalieri invece le fazioni mi sembrano particolarmente ben studiate. I troll sono una macchina da guerra con la meccanica interessante delle pietre che servono per attaccare ma anche per difendersi. Perciò bisogna sempre stare attenti a quanti se ne usa. I cavalieri a prima vista sembrano molto fragili. I due arcieri hanno solo tre punti vita e lo spadaccino 4. Il fatto però di poter richiamare dei rinforzi è un punto a loro favore e anche il fatto di avere ben due arcieri è un vantaggio non da poco. Io come al solito vi ringrazio per avermi visto fino a qui. Se avete domande, commenti, dubbi, qualsiasi cosa potete scrivermi e cercherò di rispondere quanto prima. Vi saluto e vi auguro buon gioco. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!